Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Coronavirus, scherziamoci su. Dunque, gli industriali irpini, grandi, medi e piccoli, sono giustamente preoccupati per gli effetti devastanti che l'emergenza sanitaria sta producendo sulle attività produttive costrette a fermarsi. In buona sostanza, dicono che in provincia di Avellino, come altrove, migliaia di lavoratori perderanno il posto perché chiuderanno per sempre decine e decine di imprese. Cosa dire? Va bene essere realisti, ma a confronto con gli imprenditori irpini Cassandra era una profetessa di felicità. Grazie. 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 Grazie.